La qualità del giocatore è impressionante e fa la differenza. A maggior ragione se si lascia spazio e tempo ai centrocampisti di ragionare e ci si dimentica di uno come Palassio. Vero che l'attaccante ex Genoa non sembrava in serata, ma il codino di Stramaccioni questa volta castiga consigli e continua il suo Magic Moment.